La benzina mediamente è aumentata da 45-50 centesimi nel giro di 15 giorni, quindi ha destabilizzato tutta l'utenza e ha creato dei problemi non da poco. I distributori sono semi deserti, i cittadini, gli autotrasportatori stanno aspettando a fare rifornimento perché nelle prossime ore si potrebbe concretizzare per la maggior parte dei distributori di carburante la discesa dei prezzi. E' da stamattina che ci chiedono quando abbassa il prezzo, infatti come si può notare il distributore è praticamente vuoto perché la gente aspetta di sapere quando ci sarà questo abbassamento. Diciamo che le variabili sono tante mi sembra di capire. Sì, sono tante le variabili perché non è una cosa istantanea, è questo il problema, dobbiamo aspettare le disposizioni delle varie associazioni, delle compagnie eccetera eccetera. I provvedimenti del governo sono stati pubblicati durante la notte in gazzetta ufficiale per quello che riguarda benzina e diesel sono 25 centesimi in meno per il GPL, 8,5 centesimi. Le riduzioni saranno valide per i prossimi 30 giorni ma ancora non sono state applicate nella maggior parte dei distributori. Nella giornata i prezzi caleranno, prima magari calerà Eni poi altri, stiamo aspettando tutti noi gestori di capire la linea guida poi delle dogane per poter recuperare i soldi delle accise che noi abbiamo pagato e abbiamo nelle giacenze dentro i serbatoi. Quindi nel giro di oggi comunque i prezzi di tutti gli impianti caleranno e il decreto sarà attuato in tutti i distributori. Chi ha dentro carburante l'ha pagato lui quindi lo deve recuperare ma non penso che con i tempi dovuti venga recuperato.